Buonasera, ben trovati alla nostra trasmissione dedicata all'emiertillo rosso palustre del nord del Canada. Ne parliamo come sempre con Gian Paolo Tocco delle Onde. Buonasera e benvenuto. Buonasera a tutti, buonasera. Lo ricordiamo, lei è naturopata, erborista, presidente e fondatore di Erbe Medicali. Dicevamo, parliamo appunto di questa bacca rossa che ha delle proprietà davvero straordinarie, viene raccolta appunto nel nord del Canada ed è un prodotto assolutamente selvaggio, è così? Assolutamente. Allora va detto che la regione del Cranberry, perché questo è il nome di questo mirtillo rosso selvaggio, la regione del Cranberry sarebbe sud orientale, sono le regioni atlantiche, ma il vero selvaggio lo si trova più a nord dove c'è il grande freddo. Lì questa bacca è veramente ricchissima di principi attivi praticamente irriscontrabili in altri mirtilli di tutto il mondo, perfino nei mirtilli canadesi, perché il Cranberry si sa ha proprietà antiossidanti, ha proprietà antiinfiammatorie, antibatteriche, ma la concentrazione di questi principi attivi nelle bacche selvagge, selvatiche, del nord del Canada non ha paragoni nel mondo. Poi noi abbiamo un protocollo di produzione che ci ha fruttato un premio internazionale che ci consente di spostare tutti i principi attivi di questo frutto nel prodotto che si chiama USA Redberry. Ecco, ha fatto bene a specificarlo signor Tocco appunto perché di mirtillo si parla ormai da molto tempo, lo si trova praticamente un po' nella grande distribuzione, anche appunto nei supermercati, però questo è un mirtillo davvero particolare appunto perché è incontaminato, è una delle sue grandi proprietà è questa. Incontaminato perché l'area è completamente incontaminata, a nord del Canada non ci sono insediamenti dove noi abbiamo questi terreni in cui non facciamo niente se non la raccolta verso fine ottobre, perché torno a ripetere, deve nascere, crescere, maturare in maniera selvatica, selvaggia, noi ci procuriamo solamente, noi provvediamo solamente alla raccolta particolare, molto entusiasmante utilizzando tra l'altro acqua di disgelo dei ghiacciai in un'area del Canada in cui non c'è nessun insediamento produttivo, non ci sono aziende, industrie, aeroporti, non c'è niente. L'aria è assolutamente pura, l'acqua è assolutamente pura, il terreno altrettanto ci garantisce un frutto incontaminato ma soprattutto straordinariamente concentrato e ricco di principi attivi. Ecco dicevamo incontaminato, voi non avete mai pensato ad una vera e propria coltivazione? No assolutamente, no perché la coltivazione sarebbe ereditizia sotto il profilo inizialmente, potrebbe essere, sembrare redditizia perché ci consentirebbe una produzione maggiore con la coltivazione ma è inutile coltivare tanta roba che non serve a niente, meglio poca roba, cioè meglio un chilo d'oro o un quintale di patate noi abbiamo deciso meglio un chilo d'oro perché un chilo del nostro Usared Berry è un chilo d'oro poi i mirtilli si trovano dovunque ma per esempio nella grande distribuzione o nella distribuzione alternativa non si possono utilizzare frutti di questo tipo perché sono rari, perché la produzione è limitata, perché non consente di soddisfare la richiesta di un pubblico esteso, consente di soddisfare la richiesta di un pubblico esigente. Noi abbiamo scelto di soddisfare le richieste di un pubblico esigente, non di distribuire ad una massa che alla ricerca del buon prezzo poi si ritrova senza efficacia. Ricorda l'indagine fatta da Altro Consumo mi sembra che analizzò moltissimi prodotti a base di mirtillo presenti sul mercato non ha trovato mirtillo, non ha trovato principi attivi in grande concentrazione e lì dove c'era presenza di mirtillo il mirtillo era di scarsa qualità. Ecco perché quei prodotti avevano portato il pubblico a dire ma il mirtillo alla fin dei conti non è che funzioni molto, certo se non c'è è chiaro. Nel nostro prodotto questo in 25 anni non è mai accaduto, anzi ci ha consentito di conquistare mercato anche in esubero rispetto alla nostra produzione. Ecco signor Tocco però ci spieghi esattamente che cosa è contenuto in una compressa di Redberry. Giusto? Usa Redberry. Allora, dato per scontato che questo premio che ci è stato dato rappresenta la nostra capacità di spostare l'intero patrimonio della bacca selvatica in una compressa, diciamo che in una compressa c'è esattamente un etto di cranberry selvatico. Questo cranberry selvatico è polverizzato, corrisponde ad un 20% della compressa, in questo 20% ci sono micropolveri straricche di antiossidanti, di antiinfiammatori, di depurativi, di digentossicanti. Il resto della compressa ovviamente contiene quei carboidrati che sono tipici del frutto come nella mela ci sono i carboidrati, nel cranberry ci sono i carboidrati, stiamo parlando di quantità esigue perché tentiamo di eliminare il più possibile, rimangono 0,7 grammi di carboidrati del frutto, rimangono 0,3 grammi, quindi un terzo di grammo di zuccheri del frutto, il resto sono tannini condensati, antociani, flavonoidi. Insomma, uno spettacolo, questo mix di antiossidanti è uno spettacolo perché copre tutta la gamma degli antiossidanti che servono per ringiovanire e per fare tutto quello che diremo fra poco. Ecco, questi invece edulcoranti che spesso intimoriscono le persone, di che cosa si tratta esattamente? Allora, gli edulcoranti che noi aggiungiamo sono praticamente uno 0,02 grammi inesistente di edulcoranti derivati dagli agrumi che sono necessari per la realizzazione della compressa, ma è un quantitativo così minimo che la compressa è ammessa, anzi è consigliata perfino ai diabetici, perché torno a ripetere, se il fanatismo porta a considerare 0,02 grammi, cioè 2 milligrammi di edulcoranti, un pericolo per la salute, allora siamo davanti al fanatismo. Il medico dice che questo quantitativo non influisce minimamente nemmeno in un diabetico grave. Ecco, questo prodotto sta incuriosendo molto le persone, capita appunto che chiamino in continuazione durante la trasmissione, ma non solo, e chiedono appunto delle informazioni ulteriori riguardo a quelle che sono appunto le proprietà di questa bacca che noi amiamo definire quasi miracolosa. Allora, la prima azione è quella antiossidante, quindi ringiovanente, entra nell'organismo e ripulisce la membrana cellulare di tutte le cellule del nostro organismo, quindi è depurativa, quindi è disintossicante, ha proprietà drenanti e poi comincia l'azione vera sui vari organi. È un ringiovanente del cuore, pensi a che vantaggi possiamo avere, è un disintossicante, un depurativo del fegato e dei reni, pensi ai vantaggi che possiamo avere, è un ringiovanente delle pareti interne delle arterie, quindi dell'endotelio, pensi ai vantaggi che possiamo avere, ma li possiamo riassumere. Quando ci sono problemi circolatori, le gambe gonfie, lasciamo stare la pressione alta, ma che quella la vediamo perché ci fanno la misurazione della pressione, però le gambe gonfie, il dolore ai piedi, il formicolio all'estremità, cioè le dita delle mani e dei piedi. Questo può significare una compromissione della fisiologia, della circolazione sanguigna e del microcircolo. Questo frutto, oltre a ringiovanire le grandi arterie, riapre i capillari, quindi viene prescritto per esempio dai medici per prevenire e per curare le retinopatie. Il cervello, riaprire il microcircolo significa portare ossigeno e nutrimento al cervello, trovando di nuovo la memoria, perché questo vedo immediatamente, la memoria e la capacità di attenzione, ma il primo effetto che vedo, che sento è l'energia, perché ripulendo l'organismo, disintossicandolo, riportando ossigeno e nutrimento a tutti i distretti, anche quelli periferici, oltre al cervello, immediatamente, ma le parlo, le dico dopo le prime due compresse, io sento immediatamente l'energia. Senta, signor Tocco, appunto questa compressa davvero ha dei benefici molto diffusi, però quante compresse bisognerebbe prendere? Al giorno ne basta una oppure sarebbe meglio aumentare le dosi. Allora, come prevenzione? Siccome è un alimento, non è neanche un integratore alimentare, perché abbiamo fatto già discussioni, abbiamo già parlato di questo in passato, integrazione significa che sto integrando, per integrare bisogna che manchi qualcosa, e come faccio a sapere che manca qualcosa? Allora, da buon, non erborista, da buon consumatore, dico, il medico è un'analisi, un'analisi di laboratorio mi deve dire che sono carente di qualcosa, allora vado, mi rivolgo all'integratore. Qui stiamo al preparato alimentare, cioè il famoso alimento che diventa medicina. Questo alimento entra nel mio organismo, sviluppa tutti i benefici di cui abbiamo parlato e con una compressa, cioè con un etto di mirtillo al giorno, io ho la quantità, chi se lo può permettere, io ho la quantità di antiossidanti, antiinfiammatori, depurativi e disintossicanti e drenanti, perché elimina i liquidi in eccesso, sufficienti per mantenere il mio stato di benessere. In questo periodo, sbalzi di temperatura, virus, batteri, influenze, o in presenza di infezioni gastrointestinali o urogenitali, o in presenza di uno stato di affaticamento del mio corpo per stress fisici, per il lavoro, per le preoccupazioni, posso passare, o infezioni come dicevo del tratto gastrointestinale e urogenitale, posso passare a due compresse al giorno per un periodo limitato, 15-20 giorni. Come sento che sto di nuovo bene, è sufficiente mantenere il mio benessere con una compressa al giorno che va succhiata, non ingoiata, perché comincia già in bocca a esprimere, a sviluppare e a fare la sua azione di antibattericità sia nel cavo orale che nella gola. Ecco, gennaio-febbraio è classicamente il periodo più freddo dell'anno che spesso ci porta così a dei veri e propri raffreddamenti, alle classiche influenze stagionali. Il mirtillo è davvero ottimo, se abbinato a che cosa? Allora, mirtillo sempre comunque di base, perché io devo riaprire la circolazione, devo ringiovanire il mio cuore, devo regolarizzare la pressione, non voglio le gambe gonfie, voglio il cervello che funzioni, voglio l'energia. Grandissima azione di antiaderenza batterica, ma in questo periodo, oltre alle aggressioni batteriche, siamo sottoposti ad aggressioni virali, perché c'è l'influenza stagionale. Allora, il pacchetto inverno che noi facciamo, il pacchetto salute inverno che noi facciamo è il mirtillo rosso, che ripeto è la base quotidiana, e un'aspirina naturale che noi produciamo, che noi realizziamo con la corteccia del salice bianco, quindi il prodotto si chiama Salicem. È la vera aspirina naturale, quella che è stata copiata dalla chimica per produrre l'aspirina che troviamo nelle farmacie. Questa è un'aspirina naturale, ci vuole un mese e mezzo a farla, perché ci vogliono più di un mese e mezzo, ci vogliono 40 giorni solo per la macerazione idroalcolica, ma ottengo una sostanza purissima, naturale, che assunta quotidianamente una ventina di gocce al giorno in questi mesi freddi, mi aiuta a combattere le aggressioni virali, ma soprattutto tutta quella sintomatologia tipica dell'influenza che ci stende, che ci mette a letto il dolore muscolare, ovviamente il catarro che si forma, quei famosi brividi che sentiamo quando sta per iniziare. Ecco, assumendo quotidianamente questa aspirina abbinata al USA Redberry, io non è che non prenderò l'influenza, ma l'influenza mi aggredisce stasera alle 7 e io all'una di questa notte già ho fatto una piccola sudatina e mi sono liberato. Quindi non è il vaccino che promette che non prenderai l'influenza, vaccino che promette ma non sempre mantiene. Questa promette e mantiene. Cioè io, dice l'aspirina, ti darò una mano quando arriva il virus a non lasciare che il tuo sistema immunitario sia abbandonato a se stesso e aggredito da questi virus e quest'anno è bruttissima l'influenza, porta febbre altissima, ma do una mano al sistema immunitario con questo acido acetil salicilico naturale per cui in poche ore io contrasto lo sviluppo dell'influenza e i suoi sintomi. Mirtillo e aspirina assolutamente rimedi naturali. Quali sono se ci sono gli eventuali effetti collaterali e ciascuno di noi può appunto assumere queste compresse? Mi riferisco per esempio alle persone magari un po' anziane che si sa sono sottoposte a delle terapie farmacologiche anche importanti, quindi l'integrazione appunto con la compressa di usa Redberry e appunto di questa aspirina totalmente naturale non influisce su queste terapie? Allora, il Redberry nella maniera più assoluta, a meno che non ci sia una intolleranza, un'allergia al mirtillo, come la fragola. Uno intollerante alle fragole non deve mangiare le fragole. Uno intollerante al mirtillo rosso, al cranberry, deve evitare, se ne accorge subito, mangia la prima compressa, sente un po' di prurito, vuol dire che alla gente, però le dico guardi in 25 anni abbiamo avuto due casi, due in 25 e 120 mila consumatori, quindi non entra nemmeno nelle statistiche, nessuna contraddicazione, nessun effetto collaterale. Nell'aspirina un minimo di attenzione, siccome l'aspirina, specialmente quella naturale, funziona davvero, ha grandissima efficacia e ha anche una proprietà che è quella di fluidificare il sangue, che in tutte le persone è un'azione preventiva, antischemica, cioè viene consigliato, ci sono farmacisti che utilizzano l'utilizzo dell'acido acetil salicilico tutti i giorni come prevenzione contro l'ischemia, l'ictus eccetera. L'unica attenzione è, se c'è in atto una terapia antiaggregante, scoagulante, ma sto parlando di farmaci importanti come i varfalinici o come i cumadinici, allora in quel caso è meglio limitare e utilizzare l'aspirina solo all'occorrenza, cioè ho preso l'influenza, sono in un stato influenzale duro, beh, prendo le mie 30 gocce. Se non sto facendo terapie di tipo scoagulante, nessunissimo problema, 30 gocce tutti i giorni, se arriva l'influenza anche 30 gocce tre volte al giorno, senza alcun problema. Vorrei sottolineare appunto quelli che sono i principali benefici di un'assunzione quotidiana appunto di Usa Redberry. Mi riferisco, oltre a quelli che lei ha già appunto spiegato, anche per esempio a quegli stati di torpore che si possono così sentire in questo periodo appunto di, magari anche di eccessi appunto di queste feste che sono appena trascorse, mi riferisco anche alla stanchezza mentale, mi riferisco anche sempre appunto prendendo in considerazione la fascia più debole, mi sto riferendo appunto alle persone anziane, anche a coloro che magari soffrono di demenza senile. Perbacco. Allora dire che gli antiossidanti del Redberry possono essere una terapia contro malattie di tipo neurovegetativo o come l'Alzheimer, come il Parkinson, sarebbe esagerato. Dire che l'invecchiamento cerebrale, dato non solo dall'età, ma dato per esempio da un'alimentazione scorretta, da stress emotivi, da inquinamento, da utilizzo di fumo di sigarette o da altre sostanze, insomma il nostro cervello è bombardato quotidianamente, aggredito quotidianamente. Quando perdiamo dei neuroni sono persi, non sono cellule come quelle del nostro organismo, del nostro corpo che le perdiamo e si riproducono. Perso un neurone l'ho perso e basta, quindi bisogna tenerli in grande considerazione. Questi antiossidanti, gli antiossidanti dell'Usa Redberry sono antiossidanti che riescono ad attraversare la barriera ematoencefalica, quindi arrivare al cervello, ripulire le cellule ed evitare che le cellule, specialmente neuronali, abbiano degrado e possano andarsene. Quindi è consigliato non solo a persone di una certa età, ma è consigliato anche al ragazzino sottoposto a stress da computer. È consigliabile nei momenti di affaticamento emotivo. L'effetto immediato che vedo, come le dicevo, non solo è l'energia fisica, ma proprio è l'energia mentale. Ritrovo la memoria, ma non è un miracolo. Riapro il microcircolo e ripulisco le cellule cerebrali. Vuol dire, ritrovo la memoria, la capacità di attenzione e quel torpore che può venire dopo un pasto esagerato con zuccheri o con grassi, quel torpore che non deriva solo da una sbagliata alimentazione, ma da una serie di fattori, io lo vedo scomparire. E anche velocemente, nel senso che dopo l'assunzione di qualche, appunto, compressa, è abbastanza immediato questo effetto. Siamo quasi in chiusura, vorrei accennare invece ai benefici contro la cistite, un altro disturbo molto diffuso, soprattutto nelle donne. Lì proprio il nostro, stiamo scrivendo un libro che si chiama Dalla pratica alla teoria. Cioè, noi abbiamo visto l'efficacia in 25 anni, la scienza ha visto l'efficacia in 70 anni di studi e ha capito che, oltre a tutti i benefici, uno straordinario è proprio quello dell'antiaderenza batterica. Una cistite in fase acuta la curo con l'antibiotico, ma non posso continuare terapie antibiotiche durante l'anno per non intossicarmi e per non rendere il batterio farmacoresistente. Con il cranberry, con Usa Redberry, due compressi al giorno, io non consento mai più ai batteri che generano la cistite di ripopolarsi e di essere patogeni. Quindi la cistite la elimino, la scongiuro in futuro con l'assunzione quotidiana di Usa Redberry. Siamo in chiusura, ma vorrei accennare ad un altro prodotto davvero fantastico e ce lo testimoniano le persone che spesso ci chiamano anche qui in redazione, il vero gel, ovvero questo gel anche esso quasi miracoloso perché consente di alleviare quelli che sono i sintomi della sindrome delle gambe senza riposo. Eh sì, lì dobbiamo dire onestamente non è una cura, è un lenitivo, cioè lavora sui sintomi, ma è già tantissimo. Questo gel nasce come antidolorifico lenitivo per la cervicale, per le lombosciattalgie, per i dolori muscolari, per i dolori articolari. In tanti anni di distribuzione noi abbiamo raccolto le testimonianze dei nostri clienti che ci dicevano io avevo la sindrome da gambe senza riposo, i sintomi li sto eliminando con l'utilizzo del gel. Questo è il motivo per il quale diciamo se avete questo problema qui una buona efficacia per lenire quei sintomi maledetti c'è, quindi nasce per una cosa così blanda, lenire un po' il dolore cervicale e poi si dimostra efficacissimo nel aggredire e nel fronteggiare una sintomatologia che è davvero diabolica, che è quella delle gambe senza riposo. Benissimo, prima appunto dei suoi riferimenti, diciamo che un bel regalo per il 2018 è proseguire la propria vita in salute, quindi con quelli che sono i rimedi naturali, con quella che è la vera e propria prevenzione, quindi iniziare l'assunzione dell'usa Redberry quando si è in salute. Assolutamente, assolutamente. Benissimo, allora vediamo appunto i riferimenti, quelli che sono, li vediamo in sovrimpressione, abbiamo appunto il telefono che è 030 70 60 447, Whatsapp 391 1290 112, www.erbemedicali.it è il sito e dalleonde at gmail.com è la mail. Benissimo, grazie Gianpaolo, alla prossima. Grazie Barbara, grazie a voi.